Hai scritto ai tifosi che ti contattavano su Facebook andiamo a prenderci quello che ci meritiamo, vero? È la verità, è la verità, perché questa è una società che ci crede, che ci ha sempre creduto e che soprattutto fa dei sacrifici ogni anno per poter raggiungere un obiettivo importante che è quello della promozione. Io sono qua per questo perché l'obiettivo è uno solo, siamo in tanti ma l'obiettivo è uno solo, quello di cercare di raggiungere la Serie B.